Salve ragazzoli belli, quest'oggi riprendiamo con Grounded e vi ricordo che nella scorsa puntata abbiamo ucciso innanzitutto diverse cimici, siamo venuti poi successivamente qui alla siepe per poter in realtà prendere solamente il cuoio di bacca ma il nostro viaggio è cambiato improvvisamente e ora stiamo qui e quindi allora siamo entrati ufficialmente a tutto effetti nel laboratorio segreto della siepe lo vediamo qua, esploriamolo, se no che altro dovremmo fare, ma vediamo cosa succede scopri la password del terminale non credo che ha detto spider che no c'è un altro ah no c'è su piccoli ma perché ho detto di no che non mi è andata, vabbè dai su che ho ripensato, 58 ricordiamo, ma penso che il gioco lo tenga in mente per me banco da lavoro non possiamo fare assolutamente nulla eh ma non è un po' questo e ora non possiamo più prenderne anche se analizzatori risorse nulla no ah hai ah 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 Carichiamo l'ultimo salvataggio Cosa è successo raga Cioè ah mi sa che Mi sa che Ci hanno distrutto l'armatura e i ragni Se così fosse Signori Non possiamo proseguire No non l'hanno distrutta completamente Guys Stavo Cioè stavo prendendo delle bacche E ne ho preso una quantità assurda E ho scoperto qua Dove ci porta Essendo che sta là Attaccato al muro mi sa che ci porta verso su Vediamo un po' No ci riporta qui Nel male assoluto Sono interessato anche se è solo 100 A me non mi interessa Prendi e scappa Prendi e scappa Ho sentito Oh vabbè Dai 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 Allora Ritorniamo A casuccia bella Ok ecco Casa dolce casa Vediamo di Innanzitutto Una cosa che dovevamo fare Che o meglio forse non ve ne avevamo fatto presente E Il L'essiccatoio Potremmo Potremmo definirlo un po' così Anzi mi sa che è quello che punto Allora Dobbiamo fare un'altra cassa Un'altra cassa Che direi che potremmo Potremmo pure fare un'altra cosa Di questo genere Ovvero le casse le mettiamo qui tutte quante a fianco alla nostra amica Formica Allora Non occupano troppo spazio Ma andiamo a farne un'altra Stanno No stanno qui Forse le porta oggetti Ma nel frattempo Vediamo di Devo citare questa argilla Qui E che mi serve Cuscio Foglia Lino Ok quindi stanno qui Questo Qua stanno lì No Era il cuscio Sì Quindi questo Questo Questa la possiamo pure depositare Fermo un'altra E siamo a posto Qui possiamo pure Continuare a depositare questi E qui Rimettiamo i trefogli Ah prendiamo Ah poi Prometto che Metto un tetto Non rimarremo senza tetto All'infinito Ah facciamo questo Poi ci servono le parti di poleottero bombardiere Che stanno qui Qui Ce ne abbiamo abbastanza Questa è la domanda Non ce ne abbiamo abbastanza Sainsen Allora vabbè Non importa Eventualmente vado alla caccia Di qualche coleottero bombardiere Per fatti miei Almeno mi tolgo questa Prostrazione Facciamo un altro paio di questi E poi Penso anche a prendere altre corde grese Quindi Innanzitutto qua Ok rientrano Cosa importantissima Dobbiamo fare un po' di cuoio Almeno Cioè giusto per poterlo poi di cercare Quindi Ok Ne facciamo Tre Quanto ne serve per l'armatura Per il corpo quindi Ne servono quattro Facciamo ne quattro E stiamo a posto Eeeh Anzi no Penso che faccio il martello A questo punto Perché così facendo Possiamo fare un'altra Un'arma Un'arma Che vi farò vedere Eeeh Quindi questo poi Cioè questa In pacche Le possiamo anche depositare Per il momento Anche questo Dobbiamo mangiare No Però dobbiamo Bere con esigenza E poi Che altro Dobbiamo depositare E nient'altro signori Però una cosa E direi Che possiamo pure Mettere qui Che non c'entra nulla E' questo Eh Cosa Rappresagio in arrivo Araneide Ma di che stiai parlando Vabbè Vabbè ma non Non va a influire Su di me O Vengono Più a casa mia Mi vengono a fare Andiamo a plugare La casa Oh porca Ma che mi vengono a spaccala Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non mi rompere casa Io ti rompo la famiglia Tu non hai capito Se arriva Se arriva un bagno Ragazzi siamo morti Ok No 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 Penso che non abbiamo mai avuto Così tanta cattività Che è il corpo Mori Palla di merda Mamma mia Ti faccio vedere No no Scherzato Non ti faccio vedere nulla No 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 Non ti faccio vedere nulla E senza Oh Non ti faccio vedere Cosa Ti ho messo tanto tempo A falla Oddio in realtà L'eserci Ce l'abbiamo Però se mi spaccano Una cesta E mi Ok Ma io non sapevo Di questo sistema Degli raffreddati Ma che cazzo Stiamo nel medio Emo Andiamo a plugare Di la casa La base è stata difesa Ma sono scacazzato pure Nella base Ma E mi hanno rotto l'armatura No non è vero Me l'hanno lasciata Con un pelo di culo Che dire signori Vabbè Le risorse ce l'abbiamo Non è che non ce le abbiamo Però Ok Sarà di mo L'ho pure fatta male Vabbè Che Dobbiamo fare Ah ecco Prendiamo un'asse Un'asse d'erba E andiamo E andiamo A ricercarlo Ok Eccolo là Esamina Vabbè In che senso In che senso Ho capito Signori Qua Qua mi state confondendo Analizzo Un'asse d'erba Con l'analizzatore Ah no Ho scoperto cose E ora abbiamo ottenuto Cose che potevamo Ottenere prima Senza Andarla A ricercare Con la scienza Che crudele Vediamo il cuoio Che altro ci dà Penso nulla Infatti Però ci dà Più trenta Di potere celebrale E che Che cattivo Che è Quindi ora Che Scusa Che consiste Prego Se io tipo così Che ne so Non mi ha pensato To Questa Ah Mi sa che me le indica Quei cosi rossi Sì Buono Ho capito ora E' ottimo E' ottimo E' molto Molto Allora Non siamo Ok E' be L'ho confuso Sa di chissà Dove era Casa mia Quel bambino Che giocava In un cortile Allora Depositiamo Questa Asse Mi sorge Spontanea E a parte Finalmente Quindi a sto punto Possiamo fare una porta Le creature Non entreranno Più Fa ridere Che siamo arrivati Solo Sono Sono arrivato Solo adesso Allora Porta Penso Che sia indifferente Come verrà Costruita Ah germoglio Cordagrezza Quanto è Quattro E vai Poi Un germoglio Un germoglio Quanto era Mi saprei Di cordagrezza No due Devo fidarmi Di più A quello Che pensavo All'inizio Ok Ecco E poi Uno stelo Uno stelo D'erba Cattiva Però Il dente di rione Me lo voglio Lasciare Di a casa Anche se Vi potrei Farvi Vedere Quella cosa Che vi avevo Detto Voglio Che rimanga Albero Ruspa Allora Uno lo prendiamo Per posizionarlo Un altro Lo Analizziamo Per vedere Mannaggia Il dente Di leone Per vedere Cos'altro Ci sblocca Il gioco Ok Finalmente Abbiamo una Porta Che bello Mi sento Orgoglioso Di me Mi sento Soddisfatto Realizzato Realizzato Quasi direi Allora Vediamo Un po' Che problemi Che c'ho Però Per non aver capito Una cosa così Facile Allora Vediamo Porta Solida Muro Di steli Ecc 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 Che perla Che sono Ora lanciamo Vediamo Possiamo Trovare Qualche cos'altro Potenziamento Torcia Borraccia Miglioramento Borraccia Che direi Prendi Sti due Va Ecc 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 Casuccio Ecc Facciamo La borraccia Di livello 2 Ecc Cosa più importante Facciamo il martello Di livello 2 Finalmente Che bello Posso dire Che bello E quindi Veramente Che bello Ok Come non detto Non Il gioco Non considera Tutte le ceste Quindi Dobbiamo Ma quindi Posso dire Che non è possibile Ok Rientrare Tutte e quattro Rientrano Non è che non rientrano Però E quindi Posso dire Che bello Borraccio Di livello 2 Che bello Posso dire Che bello Spesso Facciamo così Ah non posso Non posso Lanciarla Ah non posso Signori Posso dire Che bello Ah non ho capito Ok Quindi questo A tutti gli effetti Un po' Faccio A più Non ho capito Non posso dire Che non ho capito Nulla Ah è come se Me l'ha eliminata Ok Facciamo Questa Cote Fragile No 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 Non fa danni Non fa danni Sciamanito Seppure Seppure rotta Ok Posso dire Che bello E quindi Allora 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 Possiamo Inaugurare Il bellissimo Martello Insetto Eccoli qui Amore mio Vi ricordate Delle famose Della famosa scatola Con le mentine Ecco Allora Se Se Qui andiamo Dove sta Dove sta Dove stai E quindi Eccola La soddisfazione Signori La soddisfazione Ecco Mentina Ice Cups Che già Di mentina Ah Queste mentine Ci servono Anzi Tutto Per fare Un'arma La prima Arma Vera Che avremmo E Le possiamo Anche mangiare Per ottenere Una mutazione E le possiamo Utilizzare Per potenziare Alle armi Le armi Per Aggiungerci Un Come dire Come dire Quindi Una Abilità Buttiamola Lì Su Un cacciare Così Poi Allora Andiamo a Innanzitutto A ricercarle Che A ricercarle A esaminarle Posso Esaminare Le mentine Non comune Innanzitutto Preccio Preccio di mentina Signore C'è qualcosa Che non va Ok forse È cambiato qualcosa Nel gioco È possibile Che è cambiato Qualcosa Allora Vediamo Inanzitutto E tornare Alla base Se non è così Come mi ricordavo Signori Siamo spacciati Perché dobbiamo fare Una terza Un terzo Maglio Pormiga Nooo Hanno cambiato Qualcosa Nel gioco È inaccettabile Vabbè Continuiamo Con queste cose Misericoli Signori Che dirvi Allora Questa è l'ultima Oh no Non c'ho nemmeno La pelura d'acaro Posso dire Che Mi sono fatto Due scatole Così E poi In realtà Sono un pirla È inutile Andarle a rifare Se intanto Le posso riparare I feel a little less squishy now Andiamo a buttarla Che ne so Buttamolo qua Questo Vabbè Dai E poi Vabbè Sì Mettiamoci anche queste E infine Infine Pensiamo A questo A Mo Per il momento No Ho detto niente Per il momento Non facciamo più Borde Perché se no Non c'ho più le fibre Che vorrei evitare Per tutto questo Io vado un po' a caccia Di Con le otte ribombardi Ragazzuoli Allora Vi volevo far presenza Del fatto Che Di ricordare Dei famosi denti Da latte Che c'erano In giro Eccetera Eccetera Uno era qua No Probabilmente Si servono Per Di potenziamenti Però vi faccio vedere Guardate Quando gli avrò Li rilasciano Quest'aura Potentissima No Ti prenditi Da denti Al latte Al latte Vabbè Ah no Vabbè Non la lasciamo perdere Giù Giù Allora Noi dovremmo andare Qui alla cosa Lisa Do stai Ok E le ass Ecco Infusione denti Qui possiamo aumentare Le nostre Competenze Io direi Che potremmo Aumentare Sicuramente Possiamo aumentare La salute massima E la resistenza Un primo dente L'avevo trovato io In una zona Vabbè Ok Ma facciamo questo Facciamo questo Ok E vabbè Era giusto Per farvi il presente Di questa cosa E per il resto Continuerò a farmare Inesorabilmente Ok ragazzoli belli Eh Io ho farmato Un po' di oggetti E finalmente Abbiamo le parti Per questo Che bello Veramente Dovrò poi Rientrare A ripare Il farming Sfrenato Di altre cose Di Altri bellissimi Coleotti Ma vabbè Non importa Non importa Allora Vediamo Dove possiamo Ok Basta Eh Deposidiamo Queste Resucce qua Ok Abbiamo Oppure Preso Un bel po' di Lino qua Tutto Tutto ciò Eeeh No Era qua Questo Questo E No Questo Sve Bene Che faccio Ah Ci sono Un paio Di Di cose Un Un Paio Di Coccinelle No Possiamo mettere Tre alla volta Vabbè Non è Pronto E Allora Direi Ragazzi Li belli Che Per questo Piuttosto Io E Pittoccio Per questo Episodio Può Anche Bastare Qua Guardate Se non Mi siete Iscrivetevi Attivate La campanellina E mettete Like Ricordate Inoltre Di Seguire I prossimi Episodi Di questa Serie I vecchi Episodi E le serie Che porto Abitualmente Ed è Tutto Questo Ci possiamo Anche Salutare Guys Bella Bella Ciao Ciao